Cifone chi è che ha tagliato quell'edera qua che l'hai fatta morire qua così aiuto aiuto ma sei matto arriva arriva il campion dai 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 fosso se vai di lì vai nel fosso l'ha già fatta qualcuno andar giù di là senti come va bene con la moto la così sei perfetto vito spiegagli moto a valle e pilota a monte si ma andando su a piedi però non con le moto ma sei fuori arrivano no bisogna tagliare quelle derelie perché stanno facendo morire anche quella la di pianta e che sarangia ascolta si si andiamo di lì o da qua o la solita bravo vai di là che va bene più facile, è un pochino più morbida, tieni il culo indietro e basta, non fare niente, stai indietro col culo, bravo, indietro col culo, meglio di là, secondo me è meglio quella là, indietro il culo e sul piede sul freno, bravo, così, grazie a tutti, grazie a tutti.